Due o tre senatori per l'Alto Adige. Per il momento a Roma nulla è deciso. In Commissione Senato è stata avviata la discussione riguardante la riforma costituzionale e tra le questioni da chiarire vi appunto anche quella del numero di senatori. Allo stato attuale la riforma prevede due senatori, uno espressione del Consiglio provinciale e l'altro dei sindaci, mentre è tutta da chiarire la questione dell'eventuale terzo senatore per l'Alto Adige. Per capire come si sta evolvendo la situazione abbiamo raggiunto telefonicamente il senatore Hans Berger a Roma proprio per trattare la questione. Se parliamo di proporzionalità in confronto alla popolazione del paese a noi ci toccherebbe un senatore, adesso sono previsti due, la nostra proposta è di averne tre e di averne tre per il fatto che c'è anche la necessità di rispettare anche le minoranze linguistiche, il che volire due tedeschi e uno di lingua italiana. Adesso queste proposte saranno difficilmente accettabili, però vediamo un po' le nostre proposte vanno in questa direzione e vediamo come si andrà avanti. Da ricordare che la richiesta di tre senatori per l'Alto Adige fa parte del gruppo di emendamenti presentati dal gruppo per le autonomie firmati da Carl Zeller, Francesco Palermo, Hans Berger, Vittorio Fravezzi, Albert Lanisset e Franco Panizza ed era stata avanzata per tutelarne i gruppi linguistici al suo interno. Adesso per il momento sono previsti due, se sono due bisogna vedere i gruppi linguistici come rappresentarli perché sarà un delegato da parte del Consiglio Provinciale e un delegato sindaco da parte del gruppo dei sindaci che potrebbe poi essere il sindaco del capoluogo. Per capire se l'Alto Adige potrà avere o meno un terzo senatore bisognerà attendere martedì prossimo in Commissione, il senatore Francesco Palermo non considera comunque a rischio la rappresentanza del gruppo italiano al Senato, se il numero di senatori dovesse rimanere a due. Lo sancisce la misura 111 del pacchetto e funziona così nell'applicazione della proporzionale, con due posti a disposizione, il secondo sarebbe garantito al gruppo italiano.